Nel momento in cui sta bruciando la provincia oltre 70 interventi negli ultimi 15 giorni, diverse zone a fuoco dalla Valdichiana alla zona Aretina al Valdarno e i vigili del fuoco purtroppo non hanno il potenziamento adeguato per avere squadra IB. Anche nell'Aretino è così emergenza sul fronte degli incendi. Negli ultimi giorni la provincia è stata colpita da costanti roghi che hanno messo a dura prova gli uomini e le donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Comando Aretino. Quindi facciamo appello all'istituzione dei Vigili del Fuoco, alla nostra amministrazione, di inviare quanto prima la possibilità di adeguati risorse, almeno tre squadre operative che possano supportare le squadre ordinarie. In quanto se le squadre ordinarie vengono impiegate per gli incendi di vegetazione e di boschive a supporto della struttura del live regionale, purtroppo mancano le squadre per fare il soccorso tecnologente, quindi soccorso a persone, incidenti stradali, salvaguardia degli incendi delle infrastrutture abitative e delle industrie. Quindi o immediatamente si inviano, si dà la possibilità di avere delle squadre aggiudittive ai B come avvenivano nei primi anni del 2000, altrimenti sarà veramente a rischio il soccorso tecnico urgente garantito dal Corpo Nazionale. Quindi facciamo appello ai consiglieri regionali che diano un immediato stanziamento anche nella Convenzione, una Convenzione nella quale i Vigili del Fuoco sono la parte marginale dell'IB. Un appello facciamo anche alle istituzioni di modifica della legge sull'antincendio boschivo. I Vigili del Fuoco devono essere parte attiva e di coordinamento utilizzando le sale operative dei Vigili del Fuoco e utilizzando i Vigili del Fuoco come parte attiva per spengere gli incendi boschivi.